Una sfilata di moda con i riflettori puntati sui marchi e le boutique più prestigiose del territorio e come location i locali del lobby stock. Il 12 ottobre Confesercenti Prato, col patrocinio del Comune, organizza Modo in Scena Prato da Oscar. Sarà una serata e si svolgerà in una location, credo, atipica per questo genere di cose. Si tratta della sede del lobby stock qui di Prato, sicché la serata, la sfilata di moda, si svolgerà in mezzo ai tessuti sicché praticamente credo che sarà qualcosa di molto affascinante e molto particolare. Una sfilata di moda che promuoverà, cercherà di promuovere quelle che sono le nostre imprese del territorio. La sfilata, riservata a 400 invitati, è dedicata alle proposte moda donna, uomo, bambino, spose e accessori per il 2019. È stata l'idea giusta di valorizzare le imprese del nostro territorio che fanno tessile, abbigliamento e che sono già conosciute ma che hanno bisogno anche di un nuovo palcoscenico in una location speciale, cioè un'azienda all'interno di un'azienda e già questa è una cosa meravigliosa, ma un'azienda che ha un nome importante, è il lobby stock ed è un'azienda che ormai rappresenta una congiunzione importante per Prato perché fa tessile ma da sempre è molto conosciuta anche nel mondo del cinema. È quell'anello di congiunzione che vuole rafforzare alcuni aspetti del nostro territorio che meritano tanta attenzione perché sono importantissimi. È già partita sui social una gara per mettere più like ai post relativi alla sfilata. In paglio 10 posti per assistere allo spettacolo.